Più controlli e presidi nel territorio. Dopo la recente ondata di furti che ha colpito il Valdarno, le categorie economiche del commercio artigianato ed industria della vallata hanno infatti formalmente inviato una richiesta d'incontro urgente con la presidente della conferenza dei sindaci Valentina Vadi per discutere il problema crescente della sicurezza. Negli ultimi giorni, episodi criminosi e danni delle attività commerciali hanno scosso la comunità di San Giovanni, fatti che sono stati segnalati anche a Montevarchi e in altre località del territorio commentano le categorie economiche. La sicurezza dei cittadini e delle imprese è una priorità assoluta per le nostre associazioni, per questo richiediamo un intervento immediato per arginare l'escalation di violenza. La sicurezza, proseguono, è un diritto fondamentale e imprescindibile. Gli episodi che si sono verificati negli ultimi tempi, come spaccate alle vetrine, furtico scasso, sono inaccettabili e richiedono una risposta decisa e coordinata da parte delle istituzioni. Siamo fiduciosi che la presidente Vadi comprenda l'urgenza della situazione e collabori con noi per garantire un Valdarno più sicuro per tutti. Durante l'incontro, infine, ricorderemo alla conferenza dei sindaci di organizzare una riunione urgente con prefetto e questore per valutare misure concrete di potenziamento della sorveglianza sul territorio.